Stiamo organizzando già la stagione 2014. Abbiamo inoltrato alla Federazione Italiana Tennis la richiesta per organizzare la quarta edizione del torneo Oloraga Cup che si svolgerà nella terza settimana di luglio del 2014. Organizziamo inoltre anche il torneo Open maschile nonché il torneo giovanile che si svolgerà nel mese di agosto 2014. L'edizione del 2013 è stata veramente esaltante che ha visto la partecipazione di ben 170 ragazzini provenienti da tutta Italia. Abbiamo i lavori in corso però ci stiamo organizzando al meglio, cerchiamo di fare le cose al meglio. A proposito di lavori in corso c'è un obiettivo che riguarda un nuovo campo? Sì esatto, i numeri sono in crescita al circolo e pertanto abbiamo l'esigenza di allargarci come si suol dire. Abbiamo già realizzato i progetti tecnici, adesso aspettiamo altri dettagli per poter realizzare un campo in veloce e questo permetterà di aumentare ancora di più al livello qualitativo della nostra scuola. Potrà essere pronto già nel 2014? Ci stiamo lavorando, ci auguriamo che questo possa avvenire, mettiamo tutte le nostre energie in campo per poter far sì che questo avvenga. È probabile e ci contiamo, però siamo abituati a parlare dopo che i fatti si sono realizzati.